buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata alle valute realizzata in collaborazione con il broker topfx di cui state vedendo la home page del broker dal 2010 che vi permette di operare sugli asset strumenti finanziari più importanti indici valute materie prime commodities criptovalute e attraverso due piattaforme la metatrader 4 e la ctrader per quanto riguarda la ctrader se entriamo eccola qui questa è la versione web se cliccate qui in alto a sinistra entrate nel mondo del copy trading ovvero la possibilità di replicare automaticamente le operazioni dei traders che voi potete scegliere da questa lunga lista attraverso i filtri che trovate qui sopra e potete anche iniziare a farlo con un conto demo quindi senza rischiare nulla e vi invito a cliccare sul link in basso della descrizione di questo video su youtube che vi rimanda a questo canale telegram lo state vedendo adesso zenfx official in cui trovate tanti video che è portato avanti da costantino che è responsabile per l'italia di topfx dove trovate tanti video l'ultimo pubblicato praticamente oggi equity stop loss dove trovo i miei fondi poi ci sono altri relax è uno dei più gettonati la funzione elimina fondi ce ne sono davvero tanti 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 video e soprattutto anche il discorso che sta portando avanti abbinato a myfx book costantino dove potete vedere altri numeri altre statistiche per avvalorare ancora confermare insomma quello che già vedete su all'interno di c trader se poi cliccate all'interno di un sistema vi ritrovate in questa pagina quello che stiamo vedendo oggi è mib intraday è il sistema che poco fa costantino mi ha scritto detto renato guarda questo sistema questo fornitore di strategie che saluto anche conosco gino questa è la pagina che vi trovate con le informazioni dettagliate del fornitore potete anche voi proporvi come fornitori di strategie e quindi decidere anche le condizioni che trovate qui per esempio per seguirlo queste sono le condizioni intanto sopra subito ovviamente le prime info sono sulla performance il numero di pips guadagnati il numero di copiatori da quanto tempo è presente all'interno del copy trading l'equity complimenti gino è l'andamento mensile più 20 gennaio adesso più 0 44 febbraio un report un resoconto qui del performance statistiche per cent per cent profit ball max balance drawdown altri numeri relativi quindi se quanti a rialzo a ribasso vincente perdenti le asset su cui è operato l'indice italiano l'andamento dei copiatori altre informazioni insomma c'è tutto trasparenza totale all'interno di questo copy trading e adesso andiamo a vedere invece il mondo delle valute c'è un euro che accelera l'euro che è al rialzo da quando è stata confermata questa candela verde dell'otto febbraio e le ultime due avevano visto un po' attenuarsi la spinta rialzista e oggi c'è questa acuta rialzo nuovo massimo di periodo siamo proprio adesso 1 21 e 69 su una zona di resistenza interessante ma ci arriva con il semaforo verde ai chi nasce a favore dei rialzisti quindi attenzione potrebbe staccare verso 1 e 22 il livello successivo eventuale 1 23 e 25 dall'altra parte abbiamo un dollaro debole che tocca un nuovo minimo di periodo in questo caso a ribasso perché il dollaro passa davanti nella coppia nell'incrocio con il franco svizzero nuovo minimo di periodo aggiornato poco fa 0,88 e 71, 72 e target resta al sotto verso i 0,88 c'è un dollaro invece che si apprezzano perché ha più debolezza di yen direi che è forza di dollaro dollaro yen che conferma questo trend al rialzo e siamo dentro la resistenza 105 50 ma con il semaforo verde anche in questo caso a favore dei rialzisti come a favore dei rialzisti la sterlina anche qui debolezza usd e anche le commodity con il petrolio che spinge sopra toccati ieri 60 dollari c'è l'australiano in fase di test di questa bellissima resistenza ma con il colore verde così come anche il dollaro neozelandese si sblocca dopo questa situazione che ha alternato candele verdi e rosse e punta a livello verso 0,73 così come anche usd cade già dentro e supporto 1,26 e 36 veloce occhiata al bitcoin giusto per vedere trend ai kinashi tutto rigorosamente al rialzo vicinissimi al record ad un possibile nuovo record storico verso i 50 dollari e si chiude qui questa video analisi forex buona giornata arrivederci grazie grazie a tutti